Tauci, il post pandemia, le bollette, la crisi, molte piccole aziende rischiano di fallire e di chiudere da qui a qualche settimana. È un grido d'allarme che oggi avete lanciato al prefetto di Pescara ma che riguarda un po' tutta la regione? Assolutamente sì, ma è un grido di allarme che vuole diventare anche da sprono per tutto il territorio, per far sì che si attuino una serie di politiche e di azioni che evitano tutto ciò. Per cui è una richiesta che il prefetto ha fatto immediatamente sua per far sì che si inizi in una serie di tavole di lavoro per programmare, sviluppare e trovare soluzioni nell'immediato e nel medio e lungo termine. Oggi, soprattutto a distanza di due anni di pandemia, il problema economico è molto più accentuato rispetto a prima, molto più a rischio il mantenimento delle microimprese. L'online sta facendo i danni perché la gente si è troppo abituata a rimanere a casa. Dobbiamo procedere per far rivivere le città e una volta riattivato questo sistema siamo certi che anche il commercio, il terziario ma anche il turismo potrà ripartire. Il suo intervento diceva che oggi c'è anche un problema di credito. Le piccole imprese, le piccole aziende non riescono ad avere credito dal settore finanziario. Più che non riescono ad avere credito hanno problemi nel rimodulare e rinegoziare i propri muti. In alcuni casi c'è un muro che non ancora riusciamo a comprendere perché naturalmente scende la capacità economica delle imprese e loro vorrebbero mantenere il rapporto sicuro e certo con la banca ma in alcuni casi non trovano situazioni tali da poter rinegoziare. Questo è un allarme molto importante che deve essere comunque attenzionato. Situazione bollette? Situazione bollette siamo fortemente preoccupati perché in alcuni casi incidono del 300% e diventano forse la prima spesa di un'impresa per cui lì la condizione è ancora da verificare fino in fondo però la preoccupazione è altissima perché poi si ripercuoterà sul costo del prodotto finale. è ancora da verificare fino in fondo. Grazie.